Ma che meraviglia! Alba, grazie che sei qui! Mamma mia! Scusa, prenditi questo applauso che ti fa lo studio. Accomodati! Buongiorno, buongiorno. Accomodati Alba! Allora, come stai innanzitutto? E come credo tutti, siamo tutti molto preoccupati, molto angosciati e soprattutto assolutamente coinvolti e partecipi. Tu dicevi prima, voi dicevate prima cosa possiamo fare, accogliere, come abbiamo sempre fatto, perché gli italiani sono un popolo di persone molto buone, molto generose. Forse alle volte non ci siamo reso conto, in situazioni diverse. C'era una storia molto simile a quella del bambino, che purtroppo non ha avuto un bel finale, di quel bambino che arrivò con la pagella cucita. E se ci pensi un bambino che si fa cucire e si cuce la madre, gli cuce la pagella con dei bei voti, arrivava dall'altra parte del mondo ed è purtroppo poi in questa barca, in questa situazione non c'è più stato modo di raccontarlo da vivo. E abbiamo trovato questa pagella che lo raccontava, perché lui voleva farci capire che era capace, che voleva presentarsi a noi con una bella pagella. E i bambini sono tutti uguali, noi siamo tutti uguali, in qualsiasi parte del mondo, l'accoglienza e gli esseri umani sono tutti uguali. Abbiamo tutti una vita, amori, sentimenti, dolori. Che cosa possiamo fare, Alba, per aiutare queste persone? Capire, cercare di capire ogni situazione, ogni singola situazione. Io per esempio ho visto in questi giorni, ho incontrato sulla strada tante persone che scappavano dalla guerra perché erano già state portate, magari qualcuno ha la fortuna di avere la famiglia. Sono più che spaventate, sono giustamente sconvolte, arrabbiate, mettiamoci noi nel loro stato d'animo e questo ci serve da lezione anche per il futuro, perché noi abbiamo molta paura adesso, perché questa paura ci tocca da vicino. Sì, siamo impauriti, angosciati, terrorizzati. Ma quando la paura... ecco, il coraggio deve venire dalla paura e dal ragionamento. Eh sì. Bisogna mettersi dalla parte degli esseri umani e quando un essere umano soffre bisogna soffrire e capire sempre la sofferenza, anche se dolorosa. Tra poco insieme a te parleremo, ci raggiungerà più avanti Maria Rita Parsi e parleremo e approfondiremo anche questo argomento, anche per parlare appunto dei ragazzi, dei bambini, come poter fare, come supportare anche i nostri figli da mamma e da genitori proprio e raccontare bene quello che sta accadendo e cercare di... Sai, io credo una cosa, che purtroppo... Di essere sinceri comunque, di raccontare tutto. Sì, i bambini capiscono forse più di quando siamo in grado alle volte noi di capire che alle volte ci neghiamo la realtà e andiamo avanti come se non esistesse la parte della sofferenza degli altri, no? Anche perché ci arrivano con la sensibilità. Sì, appunto, invece noi giriamo la testa dall'altra parte, su tutto. In questo momento non la possiamo più girare. Senti, siccome la tua sensibilità mi piace proprio tanto, perché prima abbiamo provato una canzone, ma velocemente, quindi dopo sono felice che forse riusciremo a farla, speriamo di farla, ma ho sentito dai tuoi occhi e dal tuo cuore delle vibrazioni potenti. Poi io ti seguo anche molto sui social, mi piace quello che scrivi, a parte che ti stimo e ti seguo da anni. Alba, non è solo bella, ma ha un cuore, una testa, è una donna super colta. No, non sono per niente colta. Ma insomma, vorrei partire dalla tua mamma. Perché innanzitutto la foto 14, mi piace tanto vedervi in questa immagine così tenera. È stato l'ultimo Natale. Poggiata sulla sua spalla. Sì, io poggiata sulla sua spalla, c'era una foto da bambina di tanti anni prima, identica. Sì, che bellissimo, anche questa, la foto 2. La foto 2. Che bella. Tu hai scritto, io me lo sono segnato, cara mamma, mi manca la tua voce, il tuo senso dell'umorismo, la tua intelligenza e persino la tua follia. Da bambina con la tua dolcezza mi toglievi la paura del buio e della morte. Perché avevi paura del buio e della morte da bimba? Come tutti, ma ce l'abbiamo chi non avrebbe voglia. Ma l'hai persa quella paura? No. Neanche io lo stavo. No. E credo che ce l'abbiamo tutti e ora più che mai tutti avremo bisogno o voglia di avere la carezza di qualcuno, di nostra madre. Io mi ricordo che mi toglieva, cioè quando mi sentivo quell'angoscia che abbiamo tutti, insomma, e pomeriggio uno dice, perché non ci fate ridere un po' magari, però mi viene veramente difficile in questo momento, sinceramente. E mi viene più invece in mente tutto ciò che di tenero e la tenerezza che noi abbiamo perso nel corso della nostra vita, e la voglia di indurirci quando in realtà in fondo tutti, anche la persona più cattiva del mondo, ha bisogno delle stesse cose di cui ha bisogno qualsiasi essere umano, cioè di essere rassicurato, di essere accarezzato, di essere capito, di essere compreso, di essere abbracciato, di avere dal bambino al cane, al vecchio, all'anziano. Allora facciamo uno sforzo anche tra di noi, sorridere è un bel modo, sorriderci, ci rassicura, e tutti abbiamo bisogno delle stesse cose, soprattutto in questo momento in cui questo problema della guerra ci porterà a tanti problemi, a tante rinunce che dovremmo giustamente fare, perché ci dobbiamo preparare perché è giusto, perché tante cose non le abbiamo volute vedere e adesso le dobbiamo vedere per forza. Ma sorriderci, dare uno sguardo d'attenzione in più al prossimo, secondo me è l'unica cosa che ci può aiutare. Ecco Alba, tu hai tra le mani la foto di tua mamma e la foto tua insieme. Che passaggio è stato per te, per Alba, per Alba Parietti, il passaggio da figlia a mamma? Perché tu poi sei diventata mamma. Qua sei con Francesco, tuo figlio, la numero tre. Guarda, è stato un passaggio complesso, perché io ho avuto una madre molto particolare. Mia madre aveva un'enorme intelligenza e sensibilità, cultura, dolcezza, delicatezza, era una donna simpaticissima, ma aveva una patologia psichiatrica complessa, che all'epoca veniva tenuta nascosta perché ancora oggi abbiamo tutti paura di dichiarare una patologia psichiatrica, piuttosto che di avere dei problemi psicologici, quando in realtà in questo mondo oramai l'abbiamo tutti, quindi finalmente si sta introducendo anche finalmente lo psicologo come qualcosa di normale, come se hai mal di gola, vai dall'ottorino, hai mal di pancia, vai da qualcuno che ti può guarire. E invece la malattia psichiatrica viene sempre vista come un tabù. All'epoca lo era più che mai, quindi mio padre è riuscito a contenere molto bene tra le mura domestiche questa follia, diciamo, che a me è costata molto cara, ma alla fine quando mio padre un giorno, una volta parlando con mio padre, ne ho parlato spesso, da bambina non capisci, mio padre proteggeva mia madre e proteggeva in questa maniera lei dall'ipotente... Quindi non le ha mai permesso di superarla forse per la troppa protezione o perché... No, non era esattamente così, la patologia di mia madre era una patologia psichiatrica serissima, suo fratello era in manicomio ed era il manicomio di Collegno da cui non uscivi se non una larva. Quindi non poteva che proteggerla. Non poteva che fare quello perché all'epoca la follia passava direttamente dagli elettricisti che erano gli psichiatri di allora, che prima della legge basale, insomma è una roba che richiederebbe tanto tempo da raccontare. In realtà la scelta di mio padre è stata di salvare mia madre da questo e quindi salvare anche me da questo perché ho avuto una madre. Allora per sbagliata in certi momenti, per complicata da capire, però era una donna meravigliosa e quindi mio padre mi ha lasciato avere una madre che poi attraverso i diari che ho trovato nel... Sì perché tu hai trovato una pila di diari di tua madre, di cose scritte, perché l'hai scoperta scrittrice in realtà. Allora no, in realtà mia madre era come il suo padre, loro erano degli artisti straordinari ma che non avevano nessuna volontà di esibire la loro arte. Mio nonno era un genio, dipingeva, suonava il violino, faceva delle cose, dipingeva come un pittore vero e grande, oltretutto era un bravissimo ritrattista, bravissimo, li poteva rifare anche un caravaggio se voleva. E il... quando è morta mia madre io ho bisogno di parlare con lei, di capirla, di capire quello che non avevo mai capito, di ascoltarla perché non avevo... Certo. E ho capito che era finito il tempo. Ecco questa è una lezione che vi voglio dare ragazzi, una lezione brutta come termine, consiglio, il tempo. Bisogna godersi il tempo. Non lo intempo. Non lo intempo. Non lo intempo, il tempo sfugge. È indeterminato. Quindi se volete fare una cosa, fatela oggi. Io volevo fare un viaggio a Parigi con mia madre e non l'ho mai potuto fare. E tutta la vita avrò il... Vabbè, trovo i diari di mia madre e mia madre scrive. Sì. Lei, il libro della sua vita dove racconta la guerra, tra l'altro, in questo... da qui non se ne va nessuno, mio padre, mia madre e mio zio, che prima del manicomio si raccontano e raccontano anche la guerra attraverso gli occhi di una bambina. Quindi mia madre mi ha raccontato. Lei, attraverso questi diari che ho trovato... Ma che bello. ...dai sette anni fino agli ottant'anni. Quindi tu hai riscoperto, anzi scoperto, forse per la prima volta, tua madre? Hai imparato a capirla attraverso... L'ho capita. Uso il termine... L'ho perdonata e mi sono perdonata in questo modo. Allora, Alba, ci è arrivato il suono della videodedica che noi ascolteremo dopo questi istanti di pubblicità insieme perché poi abbiamo una sorpresa, io e Alba. Ah! Una sorpresa bellissima. Una sorpresa? Davvero! A tra poco!